L'incidente questa sera, martedì 13 novembre intorno alle 19.30, sulla strada provinciale 53 che collega Uzzegna a Caluso. L'impatto è avvenuto tra due vetture, una Fiat Croma condotta da un uomo di 57 anni di San Giusto Canavese e un Alfa Romeo Giulietta con alla guida una donna di 56 anni di San Benigno Canavese. L'impatto è stato alquanto violento. La Croma ha terminato la sua corsa lato careggiata con la parte anteriore distrutta, mentre la Giulietta è finita nel fosso che costeggia la careggiata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile di Ivrea, i carabinieri di Aglie e il 118. Affidati entrambi alle cure dei sanitari, i due conducenti sono stati trasportati all'ospedale di Quarnier. Non sono in pericolo di vita, ha certamente in corso sulla dinamica del sinistro. Non sono in pericolo. Non sono in pericolo.